3, 2, 1, azione Ciao, questo è il mio primo video di presentazione non sapendo come presentarmi ho chiesto degli amici di farmi delle domande innanzitutto mi chiamo Luisa Cafaro, ho 15 anni e frequento il secondo superiore in un istituto tecnico Vivo a Calimero, un po' di sempre piccia di Lecce Perché hai aperto questo canale su Youtube? Ho aperto questo canale Youtube perché secondo me è una nuova esperienza e vorrei tanto divertirmi e far divertire anche voi Cosa ti piace fare nel tempo libero? Nel tempo libero mi piace uscire, stare con i miei amici, leggere Boh, mi diverto con poco Descriviti in tre parole Allora, quello di essere una persona amichevole, sensibile e simpatica Le tue amiche come ti chiamano? Hai un suo nome? Le amiche mi chiamano Lulu o Lulu Solo che a me mi piace di più Luisa Ecco perché questo è il nome del mio canale Dimmi tre i tuoi pregi I miei pregi sono i miei capelli e poi mi sento sincera e amichevole Invece i difetti? I miei difetti sono che sono lunatica e testarda Molto testarda E invece uno che non mi piace molto è che mi arrabbio facilmente Qual è il tuo colore preferito? Non ho un colore preferito, mi piacciono tutti indistintamente Che musica ascolti? Allora, ascolto musica italiana E principalmente pop La tua cantante preferita? Non ho una cantante preferita, veramente ne tengo due E l'unica di cui mi sono comprata i cd Che sono i Nasili e Anna Lisa Fai sport? Non faccio sport, però mi piacciono tutti gli sport E quest'anno io vorrei iscrivere a corsa Il tuo cibo preferito? Il mio cibo preferito è la lasagna alla pizza Quindi se mi portate una lasagna alla pizza Può essere anche chi vi sposa Dolce o salato? Salato tutta la vita Dimmi il tuo motto Fregate di ciò che diranno e penseranno Se c'è di me della tua felicità, posso oltre Bene, e ora con questo saluto a tutti Ciao a tutti! Io mi sono divertita, spero che anche voi vi sia divertiti Se volete potete seguirmi su tutti i miei social qua sotto Potete seguirmi e stalkerarmi Dalla mattina alla sera tranquilli, io sto sempre là Ciao!